Allora, quel martello ci ha fatto fare un upgrade enorme, hai visto Molly? Dai con quell'aspirapolvere, pulisci! Vai a raccogliere la sporcizia! Andiamo a raccogliere! Ciao a tutti ragazzi, siamo Remy e Molly! Aspetta! E Max! E' sporco lì! Come sporco? Devo pulire, aspetta! Ok! Sto facendo! E' molto più pulito adesso! Allora ragazzi, oggi Molly ha la mania del pulito, perché dovete sapere che da quando è arrivato Max in casa... Che sporco, aspetta! Ma non è... che schifo! Ti devo pulire! Ma non è il dito sulla testa che posta, come hai mangiato le banane marce! Comunque, Max adesso sta dormendo ragazzi! Esatto, da quando abbiamo preso il nuovo gattino, Max, dorme sempre perché è piccolino, ma Molly deve pulire sempre ovunque, perché sennò ha paura che si sporchi le zampette, oppure non lo so che pestico... E quindi, oggi ragazzi, noi faremo questo bellissimo gioco dove dobbiamo pulire per vincere! E così non ci saranno più fazzoletti sporchi in casa nostra! Che schifo! E va, te lo smettete! I tuoi muccelli! I tuoi muccelli! Non è vero! Allora, quindi, dobbiamo pulire per vincere! Guardate, c'è un sacco di sporcizia! Quindi, fateci sapere, ragazzi, se voi pulite la vostra stanza! La Rebby non la pulisce! No, io la pulisco e la metto anche in ordine la mia stanza! E le puliscono pure i piedi, eh! Mamma, se stai guardando, digli che non è vero! Che io la pulisco sempre la mia stanza e scopo pure brava! Comunque, guarda! No, no, inizio io! Dobbiamo raccogliere tutte queste immondizie! Ma che abbia capito? L'ho detto tre volte! E vabbè! Ok, inizio io! La Rebby vuole iniziare! Dai, ma non mi fa mai niente! Allora, sasso, carta, forbici! 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 Uhuh! Ah, comunque, quello è sporcizia, vedi? No! È immondizia! Allora, guarda quello lì! Please, clean up! Per favore, pulite! Guarda, c'abbiamo un'aspirapolvere! Ci penso io con il mio aspirapolvere! Oh, piano, piano, piano! Come vuole l'aspirapolvere? Attenzione, dovremmo raccogliere tutte le immondizie! Ma sono già pieno! Sono già pieno, devi vendere le immondizie! Rebby, guarda, dobbiamo venderla nel bidone! Sì, bellissimo! Ok, questo è free! È free, prendiamolo! Free, ok! Perfetto! Top! L'abbiamo messo dentro! Ah, guarda, è un carrello! È un carrello, chissà dove la portate! Perché lui da là lo vende direttamente qua! Ah, guarda, c'è il carrello che arriva fino alla discarica! Ecco, dobbiamo buttarlo qua! Nel bidone! Nella discarica! Nella discarica gigante! E poi ci danno i soldini! Ci danno un sacco di soldi! Ok, upgrade! Ok! Allora, qui bisogna pensare con calma! Attenzione, perché più immondizia raccogliamo, più soldini facciamo e più potremmo comprarsi l'aspirapolvere nuovo! Allora, qui guarda, io direi più capacità e anche, questo cos'è? Il range dell'aspirapolvere! Il range dell'aspirapolvere! Ok, tocca a me! No, no, no! Ma cosa? Ma non ho fatto niente! Dai, è appena pulito! No, adesso tocca a me, dai! Non ho fatto niente! Ma quanto vuoi raccogliere? Quelli ancora non li possiamo prendere! Non abbiamo l'aspirapolvere abbastanza grande! Non abbiamo l'aspirapolvere voluta! Attenzione, vediamo! Non ti preoccupare, pulisco tutto io! Wow! Eh, ma aspetta, adesso la devo ancora... Devo ancora... Distruggerla! Distruggerla e darsi i soldini! Perci i soldi! Perci i soldi! Dacci, dacci, dacci! No, devo raccogliere i soldi! Basta! Due a testa, almeno, dai! Ok, due a testa, ne hai già fatto due! Allora, adesso tocca a me! Ma non hai fatto gli upgrade! Adesso li faccio, un attimo, guarda! C'è la rotella là su! Guarda, sono già full! Adesso li vado... Ma perché la Reby non sa giocare? Ma sì che so giocare, guarda! Andare qua, così, quando arrivo là... Mi hanno già portato tutto grazie al carrellino! È gratuito! Oh, ma guarda quanti barattoli di caffè ci sono! Infatti, c'è un sacco di spazzatura qui! Ok, qual è gratis? Hai visto? Cosa è gratis? È gratis, se lo metti in quel bidone! Dove? Lì, guarda! Eh! Va direttamente là! Perché me lo porta direttamente là! Adesso, guarda quanti soldi che sto facendo là! No, non riusciamo a passare lì, Reby! Eh, lì ancora no, perché ci sono troppe cose! Ok, uno! Che cosa è successo con quello? Forse per creare l'aspirapolvere, incredibile! Allora, andiamo a vedere! Certo che toccherebbe a me! No, cosa stai dicendo? Guarda quanti soldi! Guarda quanti soldi! Potenzia, potenzia tutto! Allora, vediamo un po', upgrade! Oh! Allora, possiamo fare... Proviamo il power up di questo! Ok! Il power up di questo! E poi basta! Allora, quel martello ci ha fatto fare un upgrade enorme! Hai visto Molly? Guarda, adesso possiamo raccogliere anche tutti questi! Possiamo raccoglierle! Ma cosa sono? Le bottiglie di plastica! Sono le bottiglie di plastica! No, vabbè, ma non si buttano le bottiglie di plastica! Oh, siamo già full! Non si buttano! Guarda, andiamo a vendere e intanto raccogliamo tutto! Guarda! Vai, vai, vai! Guarda quante cose! Siamo già pieni! Continua! Non è possibile! Possiamo portare due bidoni adesso! Eh, ma l'abbiamo fatto prima l'upgrade! Oh, comunque dopo... Con quel martello gigante! Dopo gioco io un sacco! Guarda! Hai visto? Ho visto! E quelli sono gli attrezzi che troviamo per casa! Senti, comunque si avrà un po' gioco io, eh! No, no, guarda, non ho finito! Devo raccogliere tutte le lattine! Sì, sì, contaci! Tutti questi barattoli! Ecco, lì non si arriva, hai visto? Ok! Guarda, aspetta! La sinistra, è a sinistra, è lassù! Questa ce ne sono ancora! Ce ne sono un sacco! Un sacco! Ma questi sembrano i caffè di Starbucks, hai visto? Dai, vai a prendere i soldi! Attenzione, aspetta, guarda, c'è... Basta, dai, vai a prendere i soldi! No, guarda, devo finire di raccogliere questi! Ecco, qui non c'è più niente! Qui non c'è più niente, attenzione! Ma non vale vendere lì! Non c'è più niente, vendiamo tutto! Abbiamo venduto tutto, ragazzi! Andiamo a vedere qua quante monetine... Uh! Una missione! Cos'è? Trash Q Recovery... Allora, praticamente, abbiamo venduto... Cosa abbiamo venduto? I chiodi che abbiamo trovato per caso... Quanti soldi? Quanti soldi? Qua quanti! 4.400 possiamo potenziare tantissimo! No, attoca a me, basta! Attenzione, upgrade! Upgrade, upgrade! Vabbè, più capacità, così so con un sacco! Upgrade! Grazie mille! Sì! Ah, adesso, Rave, sai quanto gioco? No, è vero! No, grazie per gli upgrade! Ho fatto un sacco di upgrade! Uh, posso prendere tutto questo? Che cosa sono? Le la... Sì, giorno 1 completato! Abbiamo completato il giorno... No, andiamo il giorno dopo! No, 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 no! Guarda, next day! Io adesso devo fare tutti i soldi! Sì, ma guarda, next day! Sì, adesso, aspetti un attimo! Ma le puoi fare anche di là, next day! Ma bisogna pulire tutto, non è che posso lasciare la casa... Ma abbiamo pulito tutto! No, guarda quanta sporcizia! Questo lo chiami pulito! Vabbè, guarda, è finito! Non c'è più niente da pulire! La freccia mi indica di qua, un attimo! Eh, ma guarda che c'è scritto next day! Aspetta, guarda, allora... Uh... Ok, il ratio, oppure... Mmm... Quale dei due? Non lo so! Questo, dai! Facciamo tutte e due! Questo! Vai, prendiamo anche quello! Se li abbiamo i soldi... Sì, è felice! È felice! È miei soldi! Sì, vediamo completata! Vediamo upgrade o altri soldi! Fai l'upgrade! Tanti soldi! Ancora soldi! Fai l'upgrade! Upgrade, capacità e questo! Perfetto! Ok, prossimo giorno! No, 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 no! Come no? Stiamo lasciando fuori... No! Sì, se lo abbiamo... Ah, no! C'è scritto che abbiamo lasciato fuori dei soldi! Vabbè, erano cento dollari! Dovevamo aspettare! Ah, è tutto sporco! Anche qui! No! Pulisci tutto, pulisci tutto! Pulisci, pulisci, full! Perfetto, siamo già full! Ok, vai, 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 ok! Andiamo a vendere tutto! Devo pulire, devo... C'è una cassa! C'è una cassa! Chissà che cosa c'è! Vediamo cosa c'è qua dentro! Oh! Più veloce! Bello! Più veloce, sì! Più veloce, vai! Oh! Più veloce! Vai, prendiamo tutto full! Siamo full, siamo full, siamo full! Vai, 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 vai! Vallo a portare! Metti qua, metti qua, metti qua! Perfetto! Veloce, 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 veloce! No, vabbè, sei subito full! Ok, qua, vado a vendere qua! Ok! Cavolo, non posso! Devi vendere, devi vendere! Bisogna guardare le pubblicità per usare quello! No, davvero? Vai, 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 vai! Veloce! Veloce, veloce, veloce! Vai, ancora, ancora! Pulisci, pulisci tutto, Molly, pulisci! Raccogli le lattine, più non posso! Raccogli le lattine! Ce ne sono anche qui! Ecco, le prese, le prese, le prese! Ma chi è che è sporca così tanto? Ma perché lì non puoi andare, scusa? Eh, perché sono tutte scure! No, 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 dico in quel carrettino! Oh, guarda che roba! Eh, perché bisogna guardare la pubblicità, era un bonus! No! Vedi? Bisogna guardare la pubblicità! E non si può guardare! Niente pubblicità, non vogliamo vederla! Ok, ci sono! Raccogli quelli! Ok, dai, poi ti vasso a giocare! Ancora, ancora, anche quello di là! Aspetta, di qua, di qua, di qua! No, non riusciamo ad arrivarci! No, adesso... Ok, allora, vado alla base! Che cosa vuole lui? Non abbiamo i soldi! Non abbiamo più niente! Ti potenzio io! No, aspetta! Sì, quando arrivi potenzi sempre! Sì, ma devi lasciare... Lo faccio per te! La base! Guarda, più capacità! Ok, perfetto! Vai! Adesso raccogliamo tutto di più! Aspetta, lasciamo il sacchetto di limon di struttura qui! Allora, voglio vedere tutto che brilli, eh! Super ordinato! Vabbè, come siamo già full? Super ordinato, Rebby, voglio dire! Ma perché siamo già full? Ma non è possibile! Eh, dobbiamo fare gli upgrade! Ah, ok, ok! Adesso upgradiamo tutto! Dai, con quell'aspirapolvere! Pulisci! No, guarda, le bottiglie! Adesso posso prendere anche le bottiglie! Eh, lui, poverino, è disperato! Guarda quanti soldi! Continua così! Attenzione! Bottiglie, le bottiglie! Adesso raccolgo tutte le bottiglie! Ma siamo già pieni, ma è incredibile! Bottiglie di Coca-Cola, bottiglie di Coca-Cola! È incredibile! Siamo sempre pieni! Ma i soldi non li hai raccolti! Eh, dopo li raccolgo! Tanto rimangono lì, non me li rubano nessuno! Tu nella vita reale lasci i soldi per terra? No, nella vita reale no! Però in questo caso... Nella vita reale non hai i soldi! Esatto! Sei povera! Sono povera, quindi non mi devo preoccupare di raccoglierli! Quelli a destra! Wow! Che schifo! Aspetta, aspetta, fammi raccoglierli! Cos'è il latte? Ancora! Ma che è che lascia il latte lì, ragazzi? Infatti il latte non si spreca! Beh, non si spreca niente! È bello che c'è il bidone lì di fianco, potevano buttarlo lì di fianco! Esatto, non bisogna buttare le cose in giro, altrimenti il nostro pianeta Terra piange! Piange, poverino! Oh, ci sono delle padelle dopo, hai visto lì? Wow! Vai che tocca a me, vai che tocca a me! No, no, è piano, hai giocato un sacco! Vai che tocca a Molly! Hai giocato un sacco! Ma che tocca a due turni! Guarda quanti sono lì! Guarda che sono tornato alla base due volte! Vai! Buono, buono! Vedi, abbiamo, guarda cosa succede, abbiamo raccolto tre di quelli che servivano a lui e ci ha dato un sacco di soldi! Grande! Hai visto quanti ne abbiamo? Adesso potremmo potenziare tantissimo! Oh, io direi che era arrivato il momento di potenziare l'aspirapolvere! Ehi, ma infatti, ma non possiamo più raccogliere niente! No, devi tornare, ah, abbiamo quasi 6.000! Ok, ok, abbiamo... Dobbiamo potenziare! Dobbiamo potenziare! Saldi saldi! Potenziare! Upgrade! Power! Quello, quello! Quello, quello, poi basta! Non abbiamo più niente! Vai a raccogliere la sporcifia! Andiamo a raccogliere! Vediamo? Sì, le padelle, le padelle! Le padelle! Ah, le padelle! No, vabbè, ma quante sono? Ho una domanda! Vai! Come possiamo ad aspirare le padelle con l'aspirapolvere? Non si sa! In effetti non si sa, però è interessante questa cosa, è interessante! Dobbiamo finire questo livello, Rebby, eh! Ok, però al next day questa volta si voglia andare io, eh! No, no, no! Sì! No, però prima dobbiamo finire! Eh, prima finiamo, però... Dobbiamo finire! Aspetta, finisco di raccogliere e vado al next day! No, no, guarda che sei tornata tre volte, Su, eh! Ma cosa dici? Guarda che tocca a me! Guarda che devo prendermi! Ma hai fatto tutto te! Attenzione! Ma ragazzi, ma io non posso fare niente in questo gioco! Guarda, io vorrei andare al giorno dopo, però non lo voglio lasciare solo questo ragazzo pulire tutto! Ok, è arrivato il turno di Molly! Ok, qui è tutto pulito! Ok, devi finire di pulire tutta la stanza e poi dobbiamo andare al giorno dopo! Ti sei accorta di una cosa? No! Ogni giorno equivale a una stanza in più, guarda, si va di sopra! È vero! Quindi dai, puliamo tutta la casa! Puliamo la casa, altrimenti la dobbiamo pulire comunque dopo! Ok, finiamo di pulire tutta la casa! Attenzione! Vai, 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 il bottiglie! Comunque c'è l'amico lì di sotto che vuole dirti qualcosa! Cosa vuole dirmi? Non lo so, però ha una faccina felice! Sto lavorando, non possiamo interrompersi! Guarda, è felice, ti sta battendo le mani! Ok, upgrade! Vai! Perfetto! Andiamo! Attenzione! Ma è felice perché abbiamo completato... Ah, questo? Eh no, però dobbiamo guardare la pubblicità! Abbiamo completato tutto, ragazzi! No, dobbiamo finire di raccogliere le bottiglie! Vai, queste, queste! Non si può lasciare sporco! Ecco, fatto! Yes! Perfetto! E direi che è il momento di andare al prossimo giorno! Yes! Ok, allora, passiamo così! Prendiamo tutti i soldi! Se questo gioco piacerà ai nostri fan, andiamo nel prossimo giorno! Quindi non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi attivando la campanellina! Un bacione da noi è tutto! E ci vediamo presto in un nuovo fantastico video! Ciao!